Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, bentornati ad Americano, la striscia quotidiana che si occupa degli Stati Uniti e delle imminenti elezioni. Manca infatti poco, al 5 novembre, l'Election Day, è un martedì, gli americani votano di martedì, un solo giorno, molto pragmatici. Se vuoi eleggere il Presidente degli Stati Uniti o se vuoi eleggere un senatore, un deputato, ti iscrivi a liste elettorali e poi trovi il tempo un giorno feriale, lavorativo, per andare a votare. Molto pragmatici, se ti interessa vai, se sei animato, la voglia di partecipare, troverai il tempo, nessun weekend è elettorale. Dunque 5 novembre, pragmatismo tipicamente protestante, 5 novembre, Election Day e si eleggerà il 47esimo Presidente degli Stati Uniti d'America. Ma chi si elegge il 5 novembre? Si eleggono i grandi elettori. Alcuni di voi mi hanno chiesto ma chi sono questi grandi elettori e perché è un sistema così articolato, complesso, perché bisogna votare prima dei grandi elettori, i quali a loro volta eleggeranno il Presidente degli Stati Uniti. Ma i grandi elettori sono innanzitutto i delegati che per ogni singolo Stato, dei 50 Stati degli Stati Uniti d'America, eleggeranno il Presidente degli Stati Uniti. Dunque ricordo che la competizione elettorale è per accaparrarsi i grandi elettori di ogni singolo Stato. Dunque si va dai 54 grandi elettori che mette in paglio la California, ai 3 dell'Alaska, ai 4 delle Hawaii, altri stati popolosi che danno dunque tanti grandi elettori, solo la Florida 30, il Texas 40. Dunque si hanno tanti grandi elettori in proporzione al numero degli abitanti e dunque la California, che è la più popolosa, mette in paglio 54 grandi elettori e l'Alaska, che è la meno popolosa con altri stati, ne mette appunto in paglio 3. E alla fine quanti sono in tutto? Sono 538 i grandi elettori. Se sommate tutti i grandi elettori dei 50 stati, avete 538 grandi elettori. E per diventare presidenti degli Stati Uniti d'America bisogna ottenerne almeno 270, 270, the magic number, il numero magico per diventare presidenti degli Stati Uniti d'America. Cosa accade? Accade che nelle settimane successive, all'elezione del 5 novembre, i grandi delegati si raduneranno nelle capita dei singoli stati. Dunque i grandi delegati dell'Oregon, del Minnesota, della Pennsylvania, della California, dell'Alaska, dell'Hawaii, della Florida, del New Hampshire o in South Dakota, North Dakota, le diciamo tutti. Ogni Stato ha un'assemblea dei grandi elettori eletti. E qui i grandi elettori devono votare per il presidente. Il sistema elettorale americano però è particolare. E il winner, chi vince, the winner takes all. Chi vince prende tutto il partito, o meglio il candidato che poi è espresso da un partito. Il candidato che arriva primo in California prende tutti i 54 grandi elettori. Il candidato che arriva primo nel Texas prende tutti i 40 grandi elettori. In questo caso Kamala Harris dovrebbe prendere i 54 grandi elettori della California e Donald Trump i 40 grandi elettori del Texas. Dunque il primo che arriva, vince tutto, li prende tutti. Dunque uno potrebbe anche non vincere in 25 stati, 26 stati su 50, ma potrebbe vincere anche in 20, ma vince nei 20 più popolosi, nei 18 più popolosi, nei 15 più popolosi, e diventa presidente degli Stati Uniti d'America. Perché il primo che arriva vince tutto, cioè vince tutti i grandi delegati. Ma attenzione, in 26 stati c'è l'obbligo che i delegati eletti, 54 delegati, 40 delegati, 30 delegati di Trump, arrivati nel giorno dell'assemblea che deve ratificare l'elezione del presidente, votino obbligatoriamente seguendo il mandato. Ha vinto Trump e i 26, 30, 15, 18 delegati voteranno Trump. In 26 stati c'è il vincolo di mandato. Invece negli altri 24 stati non c'è questo vincolo di mandato. Dunque potrebbero cambiare idea. Cioè i 18 del Pennsylvania, i 30 della Florida, arrivati appunto alla riunione del singolo Stato, anziché votare per Kamala Harris o Trump, dipende da chi ha vinto, decidono di cambiare. Anziché votare Kamala Harris votano Trump, anziché votare Trump votano Kamala Harris. Non è, non accade tutto ciò, perché per prassi, anche in questi 24 stati, coloro che sono stati eletti, nella quota Trump voteranno Trump, nella quota Harris-Harris, cioè rispettano il mandato. Ma è un rispettarlo a partire dalla loro scelta, dalla loro libertà. Dunque in 24 dei 50 stati non c'è il vincolo di mandato. Potrebbero fare scherzetto, siamo sotto Halloween, dolcetto scherzetto, cambio. Mi avete, sono un grande elettore di Kamala Harris, è arrivato qua, invece cambio e voto Donald Trump. Tutti i 538 voti, che sono però appunto espressione dei 50 stati, verranno inviati ovviamente poi al Congresso, al Senato, alla Camera e verrà poi proclamato il 6 gennaio, verranno aperte le buste, il 6 gennaio dell'anno successivo, 2025, verrà appunto proclamato il Presidente degli Stati Uniti d'America e poi ci sarà, o meglio, si apriranno e si vedrà chi ha vinto. Poi la proclamazione a fine gennaio, c'è una vera e propria ritualità laica, c'è proprio l'investitura ufficiale alla carica di Presidente degli Stati Uniti d'America. E molti di voi mi hanno chiesto perché è così arzigogolato, perché è così complicato, non si potrebbe votare direttamente, il Presidente di Stati Uniti d'America, 538 voti vanno divisi in base a chi vince nei grandi stati e si scelgono appunto, in base alla percentuale di voti ottenuto, chi ha vinto e chi ha perso, non votare dei grandi elettori, perché questo corpo intermedio, altrimenti basterebbe fare una somma, sempre divisa per stati, perché è una federazione, una somma, le percentuali della California, della Florida, le percentuali dell'Ohio, del New Hampshire, del Connecticut, e poi sommando le varie percentuali si va a capire chi è Presidente degli statuti d'America. No, perché è un corpo intermedio come i grandi elettori, il motivo è molto semplice, in realtà bisogna risalire appunto alla rivoluzione americana, bisogna risalire dunque alla prima elezione, è quella di George Washington, si fa tutto ciò per evitare che si voti di pancia, cioè i cittadini in realtà votano, o dei grandi elettori, i quali hanno ancora poi la libertà, infatti all'inizio tutti, tutti potevano ovviamente, i 13 stati, potevano i grandi elettori cambiare idea, dunque votavano poi ancora in base alla loro riflessione, dunque un corpo intermedio ponderato che dovrebbe evitare di ragionare di pancia, di impulso, in preda a demagoghi, e dunque un corpo intermedio che dovrebbe appunto mediare tra le pulsioni, passioni del popolo votante, democrazia mediata, e invece i grandi elettori che dovrebbero essere persone più ponderate e razionali, che sì ricevono un'investitura popolare, ma poi cercano anche di capire come muoversi, per evitare appunto di magari votare o scegliere un candidato o in preda appunto a emozioni e pulsioni, e dunque doveva essere una mossa antidemagogica, antipulsionale. In realtà poi tutto ciò è un po' svanito, nel senso che i populisti fanno parte, i demagoghi populisti delle campagne elettorali, dei democratici o dei repubblicani, da sempre, il voto nel popolo è spesso un voto anche di pancia, di distinto, non c'è sempre chissà quale calcolo ponderato e razionale, la politica è anche emozioni, passioni, e dunque questo corpo intermedio in realtà sulla carta potrebbe ancora svolgere quella funzione, ma in realtà non fa che ratificare la volontà popolare, altrimenti la democrazia andrebbe veramente in tilt. Ecco spiegato il meccanismo dei grandi elettori. A domani, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sotto c'è anche un link per sostenermi, se vi è piaciuto su Tipeee.